Dobbiamo avere consapevolezza del fatto che le primarie ci consegnano una grande opportunità, una grande occasione, non un partito diviso in correnti. Ci consegnano un partito consapevole della propria forza e del fatto che, nonostante Berlusconi, nonostante Monti, nonostante Grillo, nonostante Ingroia, noi siamo noi. Non ci sono bersaniani e renziani, ci sono i democratici che saranno quelli che porteranno questo Paese fuori dalla crisi nella quale siamo precipitati. Questo è il punto centrale delle primarie.